Dopo la rivoluzione di novembre, Campobassana si torna a giocare. A Selvapiana giunge l'Avezzano di Federico Giampaolo, fratello d'Art. Il più noto Marco sta guidando con ottimo profitto la Sampadoria nella massima serie. Per il Campobasso può essere già una prima serie a verifica dopo la mano importante decisa data dalla società in settimana che ha praticamente cambiato tutte o quasi le carte in tavola a livello dirigenziale, allenatore compreso. Sarà interessante verificare la risposta della squadra, tra l'altro presente nella sua interezza la conferenza stampa di giovedì a Selvapiana. Per inciso, Masecchia, che ha appena rilevato l'esonerato Foglia Manzillo, è il quarto cambio di allenatore finora nel girone F. Il neo allenatore rosso-blu dovrebbe varare un cambio di modulo, quel 4-3-3 mai sperimentato da Foglia Manzillo, occultore unicamente del 3-5-2 nelle sue 11 giornate alla guida del Campobasso. Mancherà ancora Gurma, che non ha lavorato in gruppo per problemi di carattere fisico, che purtroppo per l'attaccante albanese si protraggono da qualche settimana. I dubbi toccano l'attacco a causa dell'ingresso nei ranghi di Augustus, classe 99, che qualche pensiero in fatto di under lo può togliere al tecnico rosso-blu. Ad ogni modo, Masecchia potrebbe essere orientato a schierare un tridente offensivo interamente senior, con D'Agostino libero di svariare, Ingrid Tolli come riferimento centrale e Salim Ribeiro allargato a destra. Questo si può evincere alla vigilia della sfida contro un avezzano avversario molto pericoloso, stando ai numeri i ragazzi di Giampaolo infatti non perdono. Dalla quarta giornata, sette i turni consecutivi utili. I due interventi settimanali della proprietà rosso-blu tessi a ridestare un feeling con la tifoseria probabilmente ancora non sbocciato del tutto, forse avranno effetti anche sulle presenze di domani a Selvapiana. De Lucia e Leone hanno cercato di contaminare entusiasmo nell'ambiente con promesse precise e mirate e con la rassicurazione pure di sfruttare la finestra di mercato attiva dal primo al 17 dicembre. Il Campobasso, gestito dal gruppo campano DL, vuole a tutti i costi il professionismo dal prossimo anno. Meglio se dovesse giungere dal campo, altrimenti il tentativo per scalare di categoria verrebbe provato con la domanda di ripescaggio, tanto pubblicizzata negli ultimi giorni dal tandem presidenziale. Radiomercato già inizia a far girare i primi nomi con i relativi movimenti. Sembra che il Campobasso abbia già messo gli occhi addosso alla punta centrale, attualmente al Cerignola, Fabio Longo, autore di sei gol in undici partite. Prematuro parlarne, ma forse neanche tanto. Siamo all'11 novembre e mancano soltanto 20 giorni alla riapertura del mercato e tre partite di campionato. La dodicesima di andata presenta gare di un certo interesse. Si veda l'impegno difficile della capolista matelica sul campo del Francavilla e quello della seconda della classe Pesaro su quello della San Giustese. L'Avastese, in tenuta straordinaria, sarà ospite del Fabriano di mister Trillini, che proprio domenica è tornato a fare punti dopo ben otto sconfitte consecutive. A partire dalle ore 14.30, Campobasso Avezzano sarà diretta dal signor Belfiore di Parma. Intanto, a livello dirigenziale, è stato presentato anche il nuovo direttore generale, Rosso Blu. Vediamo. Claudio Buono, nuovo direttore, anzi si chiama team manager adesso in inglese. Direttore generale. Direttore generale del Campobasso. Allora, è arrivato praticamente in una situazione, lei l'ha definita di tsunami, perché si sono dimessi i direttori precedenti, come conseguenza è arrivato anche l'esonero dell'allenatore legato ai due dimissionari. Sì, credo che era un atto dovuto, al di là, ripeto che noi auguriamo ogni bene al precedente allenatore, però trattandosi appunto di uno tsunami, trattandosi di persone legate alla precedente dirigenza, io credo che era un atto dovuto l'esonero. Non avremmo voluto arrivare a questo, ma ripeto, era un atto dovuto per ovattare lo spogliatoio e per cercare di fare bene e raggiungere gli obiettivi che Luca De Lucia ci ha ampiamente proposto. Quali saranno le prime cose che farà da direttore generale del Campobasso? Beh, intanto l'esperienza mi insegna che bisogna rimettere mano a tutto quello che è l'aspetto amministrativo, quindi devo recuperare un attimino tutta la documentazione, sia inerente ai tesserati che ai fornitori. Dopo aver fatto questa ricognizione andremo a vedere eventuali debiti, perché avevo accennato in conferenza stampa che eventuali debiti, ma eventuali controversie nei confronti di tesserati ci potrebbe poi compromettere l'obiettivo finale, quello che ci auguriamo di arrivare tra i professionisti. Quindi l'aspetto amministrativo deve essere curato oltremodo e deve essere sistematico e puntuale. Quindi io mi dedicherò a questo e cercherò di impiantare una contabilità di tipo generale complessivo.